ecco una prima treccia delle cipolle delle macchie delle coserie realizzata le cipolle io preferisco portarle massimo a questa grandezza perché secondo me si mantengono un po meglio col tempo ma questo dipende da terreno a terreno se dovessi farle più grosse richiederebbe molto più acque poi il risultato sarebbe veramente quella fine di meno qualità ecco abbiamo anche altre appezzamenti di trecce ancora più piccole ma sono sempre sfiziose perché ne prendi uno la consumi ecco e poi addirittura ancora più piccolo ancora questa è una particina ancora ce ne sono un bel po da raccogliere ecco qua per tanto utilizzi facciamo addirittura anche questa qua più piccola ancora vedete però si possono utilizzare tutte quasi per un anno ecco una qualità di cipolla che io riesco a tenerla in un posto giusto anche per un anno questo è neanche il 20 per cento di quelle che la raccolta ne devo raccogliere ancora un bel po